Nuovi approcci terapeutici e nuove speranze per il trattamento del cancro. Questo è il titolo del convegno che si è svolto presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli lo scorso sabato 18 maggio. Scopo dell'iniziativa, organizzata per il secondo anno consecutivo dal Centro Medico Santi Pietro e Paolo di Agropoli, con la collaborazione dell'Associazione Italiana di Culture Cellulari, la Fondazione Arco, l'Associazione Riuniti Calabria Oncologica, è stato quello di presentare, in un ambito scientifico divulgativo, i progressi ottenuti nel cancro riguardo la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento che hanno portato benefici ai pazienti oncologici. In veste di amministratrice del Centro Medico, nonché una delle organizzatrici di questo evento, abbiamo scelto la magnifica location del Castello Angioino Aragonese perché volutamente crediamo che è suggestivo ed efficace per trasmettere questo evento molto importante. Ci tengo a sottolineare che questa giornata ha un valore estremamente alto, dato dai numerosi relatori qui presenti che hanno un alto valore medico-scientifico. Il nostro è sempre l'intento di sensibilizzare la popolazione su adottare giusti stili di vita e sottoporsi a continui screening oncologici perché solo così si può prevenire e arrivare ad una diagnosi precoce della malattia prima che il tumore devasti la persona. Il mio intervento è trattato della terapia personalizzata, cioè la terapia fatta ad hoc per ogni singolo paziente sulla base di quelle che sono le mutazioni genetiche molecolari presenti nella malattia. Quindi uno stesso tumore ha diversi trattamenti a seguito delle mutazioni che sono riscontrate nel tumore stesso. Quindi è una medicina che va verso il paziente personalizzata con nome e cognome del paziente e non con il nome e cognome del tumore. In maniera da avere un migliore effetto terapeutico di ridurre gli effetti collaterali e quindi gli effetti tossici e di aumentare la possibilità di risposta al trattamento che è oramai non più il futuro ma il presente nel trattamento dei tumori e quindi nell'oncologia. Diversi studi scientifici hanno evidenziato che esistono alcuni alimenti che possono favorire l'insergenza del cancro mentre ce ne sono altri che proteggono dall'insergenza del cancro tra cui gli antiossidanti, una corretta alimentazione, un'attività fisica costante tutti i giorni, anche per esempio camminare a passo veloce, mantenere un organismo giovane e sano. Purtroppo oggi ci siamo molto discostati da quella che è la dieta mediterranea classica che era una dieta fatta di proteine integrali, cereali e la cosiddetta dieta del contadino che usciva la mattina per andare a lavorare e quindi aveva tutto all'arco della giornata per bruciare le calorie. Oggi purtroppo è diventata un po' la dieta della pasta asciutta e quindi se è un po' snaturato il senso della dieta mediterranea non a caso siamo il paese con il più alto tasso di incidenza di obesità infantile e quindi attraverso un'educazione alimentare possiamo evitare alcuni atteggiamenti sbagliati che sono anche poi alla base della prevenzione per il tumore.